Esercizio Amaldi numero 21 pagina 998 Questo è il grafico del flusso magnetico in funzione del tempo attraverso una bobina Disegna il grafico della tensione, in pratica la FEM che si genera nella bobina e quante volte si inverte la corrente indotta Sappiamo che per la legge di fare dei Neumann-Herry Lenz la FEM corrisponde alla rapidità di variazione del flusso magnetico cambiato di segno quindi prima dobbiamo disegnare la derivata di questa curva rossa che è il flusso magnetico e otteniamo questa curva grigia che è la sua derivata poi dobbiamo invertire questa curva grigia e otteniamo questa curva blu che è la FEM e infine passiamo alla corrente elettrica cominciamo con la derivata del flusso troviamo subito i punti stazionari del flusso magnetico cioè dove il flusso per un attimo non varia sono quelli a tangente orizzontale questo punto è un punto stazionario quest'altro punto lo stesso cioè ho sbagliato, volevo dire questo punto è stazionario perché si vede che lì il campo il flusso magnetico per un attimo rimane costante e poi sono stazionari i due punti estremi a 0 e a 20 millisecondi dove la curva del flusso magnetico si appiattisce e la sua derivata diventa 0 quindi il flusso magnetico all'estremità di questo intervallo 0 e 20 millisecondi diventa una funzione costante lì perciò la derivata è 0 sia all'estremità che dove c'è il massimo relativo e il minimo relativo cioè in questi due punti qua la derivata invece è massima dove è massima la rapidità di variazione cioè dove è massima la pendenza di questa curva rossa e cioè in questo punto e nel suo simmetrico di qua rispetto ai 10 millisecondi vediamo anche che qui è massima la rapidità di variazione in segno positivo perché il flusso magnetico sta aumentando e la stessa cosa accade qua quindi la derivata è positiva in entrambi questi due punti e raggiunge un valore di massimo invece la derivata è massima negativa laddove il flusso ha la massima diminuzione istantanea e cioè all'istante 10 millisecondi infatti lì il flusso sta diminuendo molto rapidamente e questa è la sua derivata il valore massimo negativo vediamo anche che il flusso magnetico è una funzione dispari rispetto all'istante 10 millisecondi perché tutto quello che accade prima dei 10 millisecondi accade ribaltato dopo i 10 millisecondi invece la sua derivata è una funzione pari simmetrica rispetto all'istante di tempo 10 secondi ora ribaltiamo la funzione derivata e otteniamo la FEM il cui grafico è questa curva blu e infine troviamo la corrente elettrica dividendo la FEM per la resistenza del circuito la corrente elettrica ha quindi lo stesso identico andamento della FEM ed è questa curva verde vediamo che la corrente è negativa positiva e di nuovo negativa quindi si è invertita di segno tre volte negativa, positiva, negativa grazie a tutti